La Juve Caserta regala una notte magica ai suoi tifosi, la pasta reggia chiude la stagione con la vittoria sul banco di Sardegna-Sassari, 77-70 il finale per i bianconeri che dopo un primo tempo equilibrato spaccano in due la sfida nella terza frazione, parziale di 21-11 dal ventesimo al trentesimo che ribalta risultato e inerzia del match. Giuri e Watt sono i protagonisti del sorpasso e del più 5 firmato all'alba dell'ultimo periodo. Caserta gestisce nel miglior modo il vantaggio chiudendo con il più 7. 18 punti per Watt, 18 anche per Bostic che si conferma equilibratore del sistema Juve che trova la doppia cifra personale di Diavara e Putney. Sassari chiude la stagione regolare con una sconfitta, inutili 20 punti di Rock Stipcevic, 14 di Josh Carter e la doppia doppia di Geni Laval. Caserta chiude con un successo e attende novità positive oltre il parquet. In settimana Patroni Avazzi parlerà in conferenza stampa, in ballo c'è l'iscrizione alla massima serie salvata sul campo e da confermare sulle scrivanie entro fine maggio.